Dopo tre giorni, man mano, questa ferita si è rimarginata e i crambi mi sono passate. Intolerante a pareti insibili e mi succedeva sedi. Sono Anna Maria, ho 88 anni, devo dirlo. Sono sarta quasi in pensione. No, c'è fiducia di mio nipote. Uno che mi mancava il fiato e che però non ho risolto perché è questione di ernia iatale. Però diciamo che con i cerotti, direi che sono migliorata anche. Di notte avevo i crampi e dovevo fare delle lunghe passeggiate, naturalmente al muio perché non volevo svegliarmi del tutto. E quante botte contro i muri. Ma questo è di troppo, forse. E poi, e niente, i crampi mi sono passati. Dormo meglio. Poi avevo comunque, soffrivo intolleranza a parecchi cibi e mi succedeva sovente di vomitare. Cosa che invece adesso si è attenuato anche questo. Mi capitava di vomitare anche due o tre volte alla settimana. Mentre adesso è salto aria la cosa. Può succedermi una volta al mese. Proprio quando mangio qualcosa che già in partenza non reputo poco adatto a me. Nelle mie intolleranze di intestino avere molta stitichezza prima. Cosa che adesso non ho più e di conseguenza anche le mie emorroidi si sono attenuate. Allora, cosa mi ha dato tanta soddisfazione? Averlo detto a delle mie amiche. Che loro mi hanno tratto dei vantaggi migliori. Quando vedo qualcuno che soffre di cose che si possono ancora rimediare. Perché alcune non si possono. Perché magari ci vuole la chirurgia. Ma molti si possono attenuare. Con i cerotti spero io di avermi il fiatone e quindi di fare delle escursioni più lunghe. No, io chiedo solo più quello. Perché le gambe sono buone. Sono salmi. Ho avuto delle scoriazioni profonde. Dopo parecchi trattamenti non avevo nessun vantaggio. Mettendomi quel cerotto lì. Uno dei cerotti. Dopo tre giorni man mano questa ferita si è rimarginata. Adesso come ho qualche incidente e ne approfitto. Ed è andata via completamente. Quindi non è nemmeno caso di farla vedere. Alla prossima.